La preoccupazione alla fine si era rivelata giusta per il dragaggio del porto di Ortona, Forza Italia aveva annunciato che si era data troppa velocità a quello che era il lavoro e anche la gara per l'assegnazione dei lavori, c'è stato un pronunciamento e a questo punto c'è un nuovo tempo da attendere per un'altra valutazione e soprattutto per la gara e l'avvio dei lavori. Noi temiamo purtroppo che ci sia l'annullamento della gara perché è stata fatta veramente male, ma non è la gara fatta male, è stata fatta male la valutazione di impatto ambientale, l'abbiamo detto all'inizio che quel tipo di valutazione non portava da nessuna parte, bisognava ragionare, ci si è detto che non volevamo il bene della città di Ortona, credo che questa sia la dimostrazione di un fallimento di un'amministrazione e soprattutto di un governo regionale che si è affidato a qualcuno dando consigli e soprattutto spronando da un'amministrazione. Andiamo avanti, prendendo in giro la città dicendo che si perdevano i fondi, non è vero niente perché al massimo si sarebbe perso un 5% che si poteva sicuramente recuperare con il ribasso di gara. Oggi assistiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, così come avevamo paventato, che non decide nulla perché rinvia tutto al 18 maggio in piena stagione estiva, ma comunque prima di dover decidere ci sarà un tecnico, un CTU che dovrà valutare le due offerte, ma le dovrà andare a valutare proprio nelle criticità che noi abbiamo segnalato, proprio sulla valutazione di impatto ambientale. Soprattutto dove andranno a finire questi fanghi, credo che i cittadini di Ortono ricorderanno il problema della banchina dove andranno messe 18 metri di altezza di questi fanghi. Credo che siamo veramente correndo il rischio di perdere questo finanziamento, che mi permetto di ricordare, con tanto lavoro ho fatto per portarli a Ortono, con tanto lavoro hanno fatto gli amministratori di allora di Ortono. Ecco, questo dispiace perché perdono il finanziamento di queste entità, credo che sia veramente una beffa. Se ne è iniziato a parlare un anno fa e quanto andrà avanti l'attesa? Beh, credo che forse, ne abbiamo parlato anche più di un anno fa, quindi abbiamo parlato quasi due anni fa, sicuramente un anno e mezzo fa, dobbiamo aspettare la relazione di questo tecnico. Mi auguro e spero, ma ho forti dubbi, che il tecnico addirittura non chieda al Consiglio di Stato l'annullamento della gara, perché credo che le difficoltà di valutazione di aggiudicare una gara, ma ripeto, soprattutto perché ci sono lacune nell'indirizzare il tipo di lavori da dover eseguire, non porteranno nulla di buono per la città di Ortono.